Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui per spacchettare 95K insieme a voi La cosa bella è che sto registrando in prima persona il tutto Vedete joystick Xbox One, la il PC con il microfono che c'erò in una posizione a quanto strana Schermo e tablet per vedere cosa sto registrando, visto che ce l'ho proprio attaccata al corpo e non so, non vedo dallo schermo Sono costretto a utilizzare il tablet, ok andiamo a spacchettare il primo pacchetto Speriamo che questa modalità in prima persona, infatti lo chiamerò first person Pack opening first person, ok, primo pacchetto Eden Hazard, avviciniamoci Eden Hazard, vediamo cosa porta, Eden Hazard, John Terry, si porta un giocatore del Chelsea ma Ok, uno un po' migliore, tipo Eden Hazard poteva capitare, ho caduto al club E il primo pacchetto è andato abbastanza di merda Comunque non so se renderà bene il video, però dai proviamoci almeno una volta, si può fare E purtroppo visto che ce l'ho attaccata proprio al torace non posso parlare troppo Ok, non posso parlare e muovermi troppo, quindi se io non mi muovo e gesticolo mentre parlo non riesco a parlare Quindi sarà un commento da quanto strano, ok, torniamo in noi, guardate quanto vibro, se parlo normalmente Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, siamo qui oggi per spacchettare, ok, terzo pacchetto È partito un po' di merda sto video, è partito un po' di merda perché poi è anche una prova per me Però continuiamo, dai, 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 vediamo cosa capita un po' di fortuna Blind, blind pacchetto di merda, blind proprio dello United di merda E io ti scarto perché sei dello United, no? Mi pare un'ottima mossa Un ottimo ragionamento, ok Quarto pacchetto che forse è il quinto, non lo so perché mi perdo sempre conto C'ho troppi gonti in testa, c'ho troppi problemi Vediamo di trovare qualcosa di decente Amsic di nuovo e Mignolè di nuovo, cioè io in ogni pack opening trovo Amsic e Mignolè Uh, ok E via la lista Trashfavori Mendy Vediamo la maglietta del Vosburg, carina E qua si scarta tutto, Mignolè mi è stato il cazzo Si sa, sei a partita di merda Ok, è andata a puttane Ok, questa volta facciamo una giravolta su noi stessi Anzi, non faccio la giravolta Faccio il casino che ci vuole sull'Eatura Quando è la Celsi, rigiriamoci Ed è... Mollo Mollo, cazzo Eh, quello sicuramente va a dovere Serio, segniamoci questo Village Boss di nuovo, è a puttane E si scarta tutto, vedete Il pad, si scarta tutto in live Cosa fare? Questa volta, ragazzi E incrociamo le dita Vediamo Posso incrociarne una perché dall'altra c'ho il... Cazzo Non posso posarlo C'ho Courtois Courtois, cazzo Courtois, cazzo Sì, Courtois Sì, Courtois Fa bene che ci ha le dita Le dita Courtois Courtois E non lo vendo neanche Non lo venderò mai nella vita, Courtois Clip di gioco registrata Son partito con la videocamera Son partito con la videocamera Comunque Clip di gioco registrata Courtois non lo venderò mai nella vita Mi serve Mamma mia, ragazzi Mamma mia Uh, il mio club Uh, forse il giocatore Sì, è il giocatore più raro Che ho trovato In questo FIFA E poi è Courtois, cazzo È Courtois Me lo volevo comprare Me lo volevo comprare Solo non c'avevo i crediti C'avevo i crediti Ma non mandavo di spendere 60k Per un portiere Ed eccolo qua, invece Ed eccolo qua, ragazzi Incrociamo le dita un'altra volta Incrociamo le dita Ora si comincia a ragionare Ora si comincia a ragionare Ed è Vabbè, Sandro 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 Tu che sei, amico mio? Niente, non mi piace Forma fisica più 20 E tu mi la crediti Eh, not bad Comunque soddisfatto per questo back opening Soddisfatto La cosa Che potrebbe Falsalire Di livello questo back opening È un if Anche l'if più brutto della storia Anche un argentui Pure se vale 15k Non mi interessa Ed ecco qua Vabbè, aspettate Però c'è qualcosa Ho trovato Nello stesso pacchetto ATS ATD Ok Eeeh Ho anche poca voce Perché sono Cioè Ho preso molto fredda Gli allenamenti Quindi Sto un po' finito Questa volta Schifriamo Ehi, che età Sei tu che età Eh, sì, so io Vabbè Che cos'è Lo stemma del Cile Ma perché ho lo stemma del Cile Ok ragazzi Questa volta Usciamo Torniamo Perché ti provo Non ci ne sono Perché ti provo Non ci ne sono Ok Vedete Vediamo Avviciniamoci 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 Eh, ma porca puttana Ho capito Che ho trovato Courtois Però Cioè Fatemi trovare Un'altra cosa E dai Forme fisiche Che a non finire Perché sono Comodissime Comunque Courtois Cazzo È il terzo 86 Che trovo No? È il Non è il terzo È il quarto Ma ancora Non avete visto L'ultimo video Perché lo sto Editando Ora Cioè Poi quando caricherò L'avrete già visto E questa volta Dai Dai Un altro giocatore La mela Vabbè Si tiene la mela Si tiene perché poi si vende Cioè Si venderà a mille Sì Un registra Un registra Capito Un registra Non un regista Sono finito Mancano pochi pacchetti Purtroppo ragazzi Che facciamo Ne apriamo un altro Questa volta Spengo la tv Guardate qua la scatola Vabbè Magari che scherzo Spengiamo la tv Conto fino a tre E la riapro Uno Due tre La riapro Ma che cazzo sto di C'è questo back opening È veramente fatto di merito Perda al razzo Ho fatto dai Prendiamoci 100k Così faccio un back opening Proviamo questa cosa E stiamo qui E ho trovato lino Che cazzo è lino Mazz Pure incazzato Cioè Sta pure un po' incazzato Guardatelo Vabbè Saranno affari suoi Non varrà un cazzo Perché è lento Un corvo Però visto Non si sa mai comunque Con gli argentoni Non si sa mai Quindi teniamocelo Teniamocelo Adesso si scherza tutto Si scherza tutto Oh Proviamo a rincociare le dita Dai ci riproviamo Questa volta vogliamo CR7 No chi vogliamo CR7 Messi Messi CR7 CR7 Ed eccolo qua Wallshade Mamma mia La lentezza Oh Questi pacchetti Oro Gratuiti Fanno Perché L'anno scorso ci ho trovato Henry Tots Quindi Dai Uno raro Chi sarà quello raro Schippiamo E ammazza Forma fisica Ok Ok Forma fisica Buonissimo Buonissimo Il resto di scarto Altri crediti Così Random Oh La bellezza No Di due pacchetti Ovviamente Se scarto Posso prendermene Anche un altro Da 5000 Quindi Per ultimo pacchetto Da 7500 Guardiamolo Guardiamolo Barzalli Barzalli E quanti crediti 1000 crediti Va bene Lo stesso Guarigione Piede Tutta la vita E prendiamo Ste 1000 crediti Magari anche Barzalli Se ce lo doniamo Perfetto Ragazzi Perfetto Un altro pacchetto Da 7500 Probabilmente Non ci arriverò Non ci arriva 5000 Non si dà Ultimo pacchetto 7500 Lo troviamo Una merda Aie Uè bo Aie Proprio compagni di squadra Non è vero Si assumono Contratti Ci lo teniamo Contratti Ok Visto ci sono Ci arriviamo A 5000 MINGHIE Ho scartato Mezzo mondo Per aprire Questo pacchetto Visto che è L'ultimo pacchetto Noi ci rigiriamo Guardiamo la Bandiera Del Chelsea La bandiera Del Chelsea Azzar Mi rigiro Ed è Che cazzo è Arbelò Il Staxag Swim E Marlos Scartiamo Tutto Purtroppo La videocamera Mi ha abbandonato Spero che questo video Sia di vostro Agradimento Mi raccomando Mi piace Un bel commento E ci vediamo Nel prossimo episodio Curto Ci vediamo Grazie a tutti Ciao